Sì, buon appetito sul Champions stasera, il Paris Saint Germain al San Paolo. Le partite le commento sempre alla fine, però mi fa piacere questo clima che unisce le due città. Questo è molto bello, sono due grandi capitali, come disse Stendhal. Dobbiamo dimostrare che oggi è una grande pagina di calcio e di sport in campo, dove mi auguro ovviamente che noi saremo vincitori, ma anche fuori dal campo. Anche questo fa grande Napoli, fa grande la nostra città, nell'essere accoglienti nei tifosi delle altre squadre. Questo è molto bello, come sarà molto bello anche essere a Genova sabato prossimo. Un'altra squadra con cui siamo gemellati e portare anche lì la vicinanza del popolo napoletano ai genovesi per la tragedia del Ponte Morandi è un altro segnale importante. Lo sport deve dare segnali forti di accoglienza, non di odio. Napoli deve essere prima anche in questo, io ci credo.